Donna, ecco il tuo figlio. La Chiesa non è una scuola, non è un esercito, non è una società. La Chiesa è una famiglia e nella famiglia non può mancare la mamma. La mamma è la persona essenziale per la famiglia. E Gesù ce la dona. Per cui non è pensabile una vita cristiana senza Maria. Maria è una dimensione fondamentale della vita cristiana. Non si può essere cristiani senza essere mariani, disse un giorno Paolo VI. Ho conosciuto personalmente un grande uomo che aveva fatto della sua devozione alla Madonna la forza portante di tutta la sua esistenza. E' il più grande profeta del secolo scorso, Carol Voitiva, che seguendo Grignone Monforte viveva con Maria, per Maria e in Maria tutta la sua giornata. E di tanti ricordi che ho di lui voglio regalarvene uno. Un giorno, descrivendo una situazione molto drammatica di Chiesa, ci disse, eravamo un gruppo di vescovi, di lavorare con intensità, con forza, con entusiasmo, senza risparmiarci. E dopo aver rincarato la dose, a un certo punto dice, ovviamente, senza preoccupazione, perché è Maria che si preoccupa per noi. E' il classico stile dell'uomo contemplativo, l'uomo che si impegna, che lavora, che ce la mette tutta, ma nella pace, perché Maria si preoccupa per noi. Vi auguro una giornata di intenso lavoro, senza nessuna preoccupazione, affidandovi a lei. Buona giornata.